Il baricentro dell'avversario è il mio, oltre che difendo faccio questo, pan, pan, contemporaneamente, pan, pan, guarda che succede, questo qua, pan, non ho fatto niente di che, quando si fa squat la schiena non si mette mai, le spaccate e pesate di più l'uomo, voi dovete andare sotto al baricentro, quindi io faccio questo, questo è un buon double leg, sul jab dell'avversario, questo è un buon double leg.